Digital Championship, in una parola, è un treno. Pop, fun and contagious. Pop perché vogliamo essere ovviamente popolari, fan un po' divertenti e contagious una contagiosità collettiva. La cultura cosiddetta digitale è un valore che più ce n'è naturalmente, nativamente nei giovani, meglio è per la società. Questa mattina noi abbiamo avuto la fortuna di ascoltare dei progetti giovani, freschi, particolarmente innovativi. Mi sono piaciuti perché sono tutti partiti da un'analisi di un bisogno puntuale. Nelle nostre corde c'è l'abilitazione al digitale del sistema paese, di una Italia che è sempre stata, il paese dei campanili ci chiamano, caratterizzata dai piccoli comuni. Ecco, questi non possono non essere parte di questa trasformazione digitale. Progetti come questi fanno bene alla pubblica amministrazione. Non limitare la tua immaginazione, pensa, bisogna proprio incominciare a pensare digitale. Il futuro è di tutti e i Champions ci aiuteranno a raggiungere.